8.000 tamponi effettuati nelle farmacie comunali di Pesaro e Gabicce Mare negli ultimi 10 giorni. Un ritmo di tamponamento che non è certo destinato a rallentare in vista del fatidico 15 ottobre che sancirà l'entrata in vigore del Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro. Insomma, chi non è vaccinato per lavorare deve sottoporsi ad una serie di tamponi ripetuti. Quello rapido costa 15 euro e ha una validità di 48 ore. Quello molecolare resta valido per 72 ore. Le farmacie si stanno organizzando per conciliare un boom di richieste. Noi ci siamo un po' rodati in questo periodo, nel senso che mentre i primi tempi quando i tamponi erano pochi li facevo solo io, da solo, a farmacia chiusa praticamente, perché dobbiamo separare l'attività ordinaria da quella del tamponamento. Adesso ci siamo organizzati un po' meglio, ho i collaboratori che mi aiutano dal punto di vista informatico e dal punto di vista dei pagamenti, per cui se il tamponamento lo faccio sempre io, il lavoro è molto più scorrevole, per cui siamo più veloci con la gente. Per cui noi speriamo di essere all'altezza della situazione. Tanti tamponi da processare, orari che si ricalibrano e diversi modi di organizzarsi. C'è chi, come la farmacia di Viaggiolitti, allestirà una stanza di tamponi esterna ai locali del negozio per organizzare le tante prenotazioni. C'è chi, come la farmacia San Salvatore, continua a effettuare tamponi senza il servizio di prenotazione preventiva. La prenotazione avviene tramite la presa del numerino che noi mettiamo mezz'ora prima dell'attività di tamponamento che avviene, ripeto, a serrande semi-abbassate prima della partita arbituale, per cui mettiamo i numerini verso le 6-3 quarti di mattina e la facciamo dalle 7 alle 8 l'attività di tamponamento. Oppure la sera, alle 8 di sera, mettiamo fuori i numerini e poi continuiamo a fare il tamponamento durante la serata o la nottata, a seconda dei bisogni, cercando di soddisfare tutti. Per adesso abbiamo soddisfatto tutti.